Buonasera a tutti, siamo qua a Palmanova dopo la partita valevole per la Coppa Italia sedicesimi di finale tra Milano-Toniolo e Bergamo-Calcetto FC. Abbiamo qua con noi parafioriti Carlo, primo appunto sulla partita e poi sulla tua prestazione. Niente da dire, è stata una bellissima partita, l'importante è che l'abbiamo portata a casa. Quello che vogliamo fare è andare a Osta e far vedere chi siamo i brasiliani. La tua prestazione invece come ti è sembrata, visto il lungo infortunio? Beh, non ho giocato tanto, però ritorno dall'infortunio, mi sembra aver fatto una bella prestazione. Hai recuperato al meglio? Sì, avevo ancora dei problemi al tallone e alle gambe, ero abbastanza stanche, però comunque sembra essermi ripreso al meglio. Come vedi la zona in campionato per il Bergamo-Calcetto? Beh, direi che alla fine del campionato arriveremo primi. Spero. Poi sono dei succhioni. Puoi dire. L'abbiamo vinto. Passate, passate, passate. Passate, passate.